A voi tutti cari amici di Meteo Giuliacci, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis. Ci siamo quasi, l'estate sta questa volta davvero per nascere, sta scalciando, si romperanno le acque e nascerà un po' dappertutto in Italia da metà settimana in poi. Ancora però al sud tanto vento, goccia fresca che dai Balcani lambisce il versante adriatico centro-meridionale, giungeranno anche nuvole nella giornata di lunedì proprio al centro e al sud e qualche scroscio di pioggia, rovescio di pioggia ci sarà, vedete, tra le regioni centrali e meridionali procedendo verso la Basilicata e la Calabria a basso rischio di qualche goccia di pioggia comunque anche sulla Sicilia con cielo irregolarmente nuvoloso. Bel tempo sulla Sardegna, bel tempo anche tra la Toscana, abbastanza bello anche lungo il versante tirrenico quindi del Lazio, guardate sull'Umbria e poi su tutte le regioni settentrionali dove prevarrà il sole e le temperature già stanno aumentando. Quindi un po' d'attesa e poi il tempo migliorerà soprattutto da metà settimana in poi su tutta la penisola italiana e fiorirà questa nuova estate 2020. Arrivederci e poi ci sarà da soffrire per il caldo. Arrivederci.